Con oltre 900 milioni di investimenti pubblici e privati, nei prossimi 4 anni lo scalo di Ravenna si candida a diventare l'hub commerciale più importante in Adriatico. L'appalto per il progetto è stato vinto dal Consorzio Stabile Grandi Lavori, del quale è socio di maggioranza la RCM Costruzioni. Sull'argomento si è espresso proprio il suo amministratore Umberto Esposito, che ha definito quella del Lab Ravennate come l'opera marittima più importante al momento in Italia. I primi lavori che partiranno impegneranno proprio la penisola Trattaroli, questa area qui che lei veda alla mia sinistra dove verrà realizzato il nuovo terminal container, che è di nuova costruzione. E poi partiranno anche contemporaneamente tre banchine sul lato opposto del Candiano che devono essere adeguate strutturalmente. Quindi è un'attività che stiamo portando avanti da mesi ed siamo orgogliosi proprio come gruppo di partecipare, perché questa è l'opera marittima più importante che parte in Italia in questi giorni. Probabilmente ci saranno pure opere anche di importo superiore, ma ad oggi l'opera più importante marittima che c'è in Italia è il Lab di Ravenna.